Nella città dei Templi il ventunesimo anniversario della strage si celebra con la manifestazione Capaci di Ricordare. Si parte alle ore 18 da Piazza Pirantello a seguire una passeggiata lungo la Via Atenea animata dal gruppo Folk Don Guanella e dai ragazzi della Casa del Musical. Diverse sono le iniziative itineranti promosse dall'amministrazione comunale di Agrigento in collaborazione con numerose associazioni che operano sul territorio. Come amministrazione comunale intanto abbiamo voluto dare un segnale che è quello di lavorare al fianco dei giovani impegnati nelle associazioni antimafia ed antiracket per progettare un'iniziativa che chiaramente ha l'obiettivo di sensibilizzare l'intera collettività e che parte proprio dal ricordo dell'eccidio del giudice Falcone e della sua scorta per promuovere e sottolineare ancora una volta quella che è l'importanza del tema della legalità innanzitutto per i nostri giovani perché comunque è un problema che va vissuto anche sotto l'aspetto della virtù, la giustizia e la legalità intese come virtù intese anche soprattutto come possibilità di riscatto sociale e di cultura personale da applicare in ogni gesto quotidiano della vita da lì noi vogliamo partire ricordando il giudice Falcone e ricordandolo attraverso le migliori manifestazioni della cultura l'arte, la musica, il teatro, la lettura e naturalmente il ricordo in particolare del momento esatto della tragica deflagrazione In serata la piazza Gallo sarà sede della testimonianza di Antonella Borsellino, referente quest'ultima del presidio Paolo e Giuseppe Borsellino di Santa Margherita del Belice e Montevago In piazza Purgatorio invece la mostra estemporanea di pittura a cura dell'associazione Onlus Cult Art sempre in piazza Purgatorio presente anche gli stand delle associazioni acquarindo e volontari di strada mentre in via Tenea un baghetto dei volontari dell'associazione dinamicamente di Favara e anche un presidio di raccolta firme per la petizione popolare piazza Orlando.it per far ritornare a Palermo la Fiat Croma Bianca su cui viaggiava il giudice Falcone nel giorno della strage Le celebrazioni ad Agrigento interessano anche Porta di Ponte con la presenza del Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, Libera e l'associazione Terra Nostra A chiudere capaci di ricordare il concerto in piazza San Francesco che dalle ore 21.30 vedrà esibirsi sul palco diversi artisti locali tra cui anche Lello Analfino de Tinduria Vorrei ricordare la testimonianza di Antonella Borsellino familiare di vittima della mafia ma anche tanti modi per avvicinare soprattutto i giovani a questo argomento quindi mostre fotografiche, intermezzi musicali, letture di poesie, spettacoli, cantastorie per poi alla fine concludere questa giornata di memoria in una maniera divertente perché deve essere anche quello con un concerto che si terrà in piazza San Francesco che vedrà tanti ospiti famosi e nonne dell'entroterra Agrigentino Grazie Grazie